Salve a tutti, mentre qua questa sta continuando a parlare, benvenuti a una puntata di questa serie su MLB Reconvenire con i nostri Nationals che stanno per perdere la qualificazione ai play-off Scusate, sto registrando subito dopo quella precedente, forse dovrei prendere un po' di pausa e salmi, calmarmi, ma non posso farlo, almeno devo giocarla Allora, Miranda, tu vai fuori dal cazzo Dopo la scorsa partita tu vai fuori dai coglioni Forse, se me la penso, giochi la prossima Forse, forse, forse Non è detto, forse E per tutto il resto, la partita rimane tutto invariato così Myers, eccetera E la Jarin, io potrei mettere Tom Itre Mitre per Green Col per Lewis, ma non lo so Va bene, lasciamo così No, ho sbagliato Non ho sbagliato Allora, c'è Green, dicevo Allora, Mitre Per Green Metto il tenente al posto del cretino Mi ha fatto perdere una partita In svariate occasioni E il resto lasciamo così E vediamo 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 Iniziamo con i Braves, signori Io non lo so, io non lo so che devo fare Non lo so Andiamo con i Braves Contra una squadra che ha ribadito e vinto 97 Partite 97 97 Poi noi siamo strani, eh Che noi abbiamo perso 3 su 3 con i Sox Con i White Sox Abbiamo perso serie con Colorado Con Guarda, è del ciuffolo Poi Poi abbiamo vinto però due partite su 3 In casa Dei Enchi Siamo strani noi Noi siamo piuttosto strani Ma Vediamo Intanto 2-1 2-2 Mettiamo contro una squadra Adesso Fortissima Guarda che c'è Oggettivamente tanto Troppo Noi queste Compresa questa abbiamo 7 partite Delle prossime 9 con l'O Che sono 7 sconfitte Proprio c'è 7 sconfitte certe Praticamente certe Dovessimo vincerne una sola E Miracle Cioè Dovessimo vincerne una sola Una sola Già abbiamo fatto molto più di quello che Che ci Che ci si può oggettivamente aspettare da noi Per questo la vedo molto brutta Perché io non Non ci credo A A A A A St. Louis Che perde le Che perde 7 Delle prossime 9 partite È quello il discorso Mentre noi perderemo Almeno 7 Delle prossime 9 partite Dico almeno 7 Perché con Baltimore E non ce la portiamo da casa Hai visto che è successo Quei White Sox Che dovevamo vincerle tutte e tre E abbiamo Perse tutte e tre Andiamo Andiamo Mi tre Mi tre Mi tre Mi tre Ah qua Ma il Red Fielder Dov'era Dov'era il Red Fielder Per Per curiosità Mi tre Mi tre Mi tre Va bene Prima eliminato Teniamo Primo inning Vediamo che riusciamo a fare Kylo Wright Il loro lanciatore Sembra che il lanci anche piuttosto forte Va bene 3 kill alla battuta Maria Maria come lancia strano Vabbè ho capito 0-1 0-1 Slarve Allora Calma Dobbiamo stare calmi Dobbiamo stare calmi Mi ha tirato il 3 Tutto fuori la zona di strike Qua non deve farmi capire qualcosa Come non detto Deve farmi capire qualcosa questo Giro di nuovo La parte Parte dopo Giro di nuovo la mano Deve farmi capire qualcosa Eh Vedi come ho capito Primo eliminato Non capire niente Però è valida Non so come facciamo una valida Bravo Myers Bravo Myers Valida di Myers Va bene Adesso Menenses Menenses è la battuta Come si riesce a fare Oh sembrava Ero convinto Andasse via L'ha tirata centralissima Va bene 0-1 Eh 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 Vabbè 0-2 Contra quick Normalmente in questi casi cominciano a tirarla fuori Però V Sempre vedi Un po' Inferno Dove cazzo vai Con 67 Rivelocità Dove vai Ma dove vai Con 67 Rivelocità Dove vai 1-2 1-2 Tempremenenza E sarà battuta 2-2 Qua devo veramente andare di logorio proprio Di ecco logorio da Fargli logorare tutti Possibile 3-2 Che bastardo doveva tirarle 3-2 E' valida Valida Va bene Valida Ma fanno mezza minchiata Ma D'oggi stiamo fermi Va bene così Fina seconda base occupata Ok Adesso l'Uter Mitre Il Mitra Il Mitra Mitre Alla battuta Vai l'Uter Eh Non è stato È stato È stato È stato Ok No Non farlo Niente Dei due Eliminati Adesso Lo restituisce La battuta Va bene Dai No È cacchio È cacchio In altri casi Siete molto più gentili Dai 1-0 Ok Lei Palli Vanno lanciando 1-1 Io qua È cacchio Bella Bella Via 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 3-0 Dai 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 3-0 Grande Lewis Out and over 3 punti Out and over Grande Lewis Grande Lewis Tenente Garcia La battuta 1-0 Dai 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 signori Dai signori 1-0 1-1 Calmi Siamo calmi 2-1 Dai Tenente Dai Tenente Tenente 2-2 Va bene Io devo Ho 7 partite Con loro Devo logolargli Tutti i lanciatori Devono arrivare A lanciare Quei raccattapalle E poi Che Ah Niente Comunque 3-0 Benissimo Bene 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 Mi sembra un buon inizio Non vuol dire niente Perché 3 punti sono niente 3 punti sono Veramente nulla Questi non so come sono combinati Non è combinato la loro batteria di battitori No non me lo ricordo 1-1 2-1 Eeeh No Io invece rifaccio la slider Io invece slider C'hai la Mmm Io non so come c'hai la mamma Però la Ah Anderà bro Sbrigati Ancora di fossetti I fossetti In periodio C'è da fare C'è la corsa contro il tempo Con il loro battitore Che sta arrivando in prima base E Kid fa i passettini Cazzo sangue I passettini Lewis Lewis ti prego Lewis ti prego Lewis mannaggia La Mannaggia La mannaggia Lewis Porto Gruaro Lewis Lewis E vado Niente Gli tre punti Io ho capito Va a finire Ce la ripareggiano adesso Proprio facile fa Ce la ripareggiano Che a un punto Un punto ce l'hanno No Quasi certo Quasi certo Un punto ce l'hanno Quasi certo Due Terec è tua 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 Tua subito Terza base Terza base Subito 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 Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene, va bene Va bene, va bene Va bene Adesso Va bene, 0-1 Ok Una curva Fagliela dare sui piedi Benissimo 0-2 Benissimo Slider di qua E' finito il vantaggio signori Finito il vantaggio 3-1 Finito il vantaggio Finito il vantaggio 3-1 Ce la stanno rimontando Non ci durerà tanto sto vantaggio Ce la stanno già rimontando Ce la stanno già rimontando Derek Hill Prendila per favore Tu ha Posto Chiudiamo l'inning Però subiamo già il primo punto Ce la stanno già rimontando Niente Ho capito Primo inning Non erano Erano entrati in campo Un ciabatte Ecco Mettiamola così Ora Dopo il fuoricampo Se sono incazzati Mi sa ce la recuperano Comunque Adesso Carson Kelly La battuta Roba brutta E' roba brutta E' roba brutta E' roba brutta Io perchè ho girato la mazza Tra l'altro Vabbè Abbiamo eliminato Sperare di tirare 0-1 Calma E' 0-1 Eh Mi sa che ha smesso di concedere i ball Invece 1-2 Calma Dovrei fargli lì 2-2 Cercare di fargli logorare male Tutti i lanciatori possibili 3-2 Ok La candelabbro Benissimo Candelabbro Fuoco in prima base Ok E adesso CJ Abrams Dai CJ Dai CJ Hai fatto un turno di riposo Ora Ma che può tornare utile Dai CJ Bella Bella Non facciamo cavolate Ok Bene CJ Prima e seconda base occupate Ora Derek Hill La battuta Dai Derek Derek 0-1 Calma Calma Siamo calmi Siamo molto calmi Calmi Eeeh 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 Cortina qua 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 Uno Ok 1-2 Va bene Va bene Va bene Bene Troppo presto Per 1-2 Troppo presto Va bene che lo prete 1-2 Ma dai Perchè non ci coglie mai La levetta L'ho messa lì Ho utilizzato lì la levetta Viene Sono eliminato Maio sta la battuta Adesso Nooo Sbagliato Sbagliato 3-1 Ticola il secondo inning Lanta è già in fase di rimonta Con 0 Cercare in qualche modo di Passare la loro rimonta Ma Non sarà per niente facile 1-1 Corrova Facciamo una cosa tipo così Slider 2-2 Facciamo una cosa così Una fecca qua 2-2 Qua Allora Aless Riorminato Dai 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 Eikov Dai Eikov Ora Facciamo al solito La prima Sembra una palla Neshinals Forte vicino alla faccia Per intimidire 0-1 Con me Belli intenzioni Poi Ho sbagliato Bene 0-2 Ok Facciamo una cosa tipo così Facciamo C'è Visce un cazzo Va bene Grande 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 Tenente Grande Tenente Grande A Miranda Gli sarebbe scappata di mano Stapallo Gli sarebbe scivolata di mano E poi Gli sarebbe Ci avrebbe messo Tre Mezz'ora A Recoglierla Da terra Ah yes Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene 1-1 Va bene Adesso Curva 2-1 Slider Qua è brutta L'arbitro 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 è quello che è L'arbitro C'ha la mamma Il mestiere della mamma è l'arbitro È noto a tutti E comunque Luis questa è tua Chiudiamo Riusciamo a non subire punti Almeno per questo inning Ok Ora Menenses Alla battuta E qua veramente Devo Ok La presa È valida È valida È valida È valida Menenses Va bene Menenses Valida Menenses Ok 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 Adesso Luter Mitre Mitre La battuta Mitre Mitre Ok Grazie Arbitro 1-0 Va bene Ok Siamo calmi Siamo molto calmi Siamo molto calmi 2-0 Va bene Va bene Va bene Dai Luter Calmi Ok Calmi 3-0 Benissimo Io 2 Lascio andare A prescindere Anche se Le tira A 10 migliorari Al centro Le lascio andare 2 Le lascio andare Se le tira 2 Allora al centro E invece No E invece C'è il walk Mitre In prima base Va bene Va bene Adesso Luis Luis La battuta Va bene Luis Dai Luis Forza Luis Va bene 0-1 Ok Va Facciamo vedere Se è presenti Chi gira Se ce la gira 0-1 Bene Porca Materia Ora non Bocchiglia Va bene Io sono rincoglionito Va bene Ma perché Sono condizionato D'altro C'è 0-2 Ora 0-2 1-2 Sono condizionato Il fatto che Quando mi sembra Centrare In realtà Va sotto Quindi Vedo una parola Mi sembra centrare C'è No Sembra centrare Sta andando sotto Invece Davvero centrare Capito C'è Questo condizionamento Assurdo Che Vai Vai Nannaggia Voi Nannaggia Voi Bellissima 4-1 Hanno fatto La minchiata Hanno fatto La minchiata Va bene 4-1 Benissimo Va bene così Adesso Lui si è la battuta 2-2 Dai 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 Eh però Sono pirla Io però Sono scemo Io Niente Primo eliminato Adesso Il tenente Tenente La battuta Io non sono scemo Io Tenente La battuta Dai Ah no Vabbè Facciamo il quinto punto Facciamo il quinto punto Va bene lo stesso Facciamo il quinto punto Dai Va bene E adesso Carson Kelly La battuta Devo Calma 1-0 Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Calma 2-0 Benissimo Va bene Devo fargli Logorare male 2-0 Vabbè 2-1 Va benissimo Va bene Eh vabbè Questa era Strike Uguale Sono Sbagliato La tempistica Ma porto Gruaro Niente Piccolo del terzo inning 5-1 Stiamo avanti Di un po' Buon vantaggio Ma stiamo calmi Buon vantaggio Ma stiamo tanto 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 calmi Loro sono Pur sempre Sono pur sempre In fase di rimonta Loro sono pur sempre In fase di rimonta Eccala E niente Niente 5-2 Ve l'ho detto E sono fasi di rimonta Questi 5-2 5-3 E' così che E' così che I punti Lo scorso inning Non sono serviti Più a niente 0-1 E niente E niente N'abbiamo fatto niente Pratica Scorso inning N'abbiamo fatto niente Ok Andrà bro Oh Finalmente Vabbè Finalmente Va bene Vedi qua Ok 0-1 Slider Facciamo così Mitra è tua Serenamente tua Mitra è Serenamente tua Secondo eliminato Va bene No Questo La Lo sei porse Io poi Poi però Faccio male a lamentarmi Dell'arbitro A dire che Che ormai il mestiere Che fa la mamma Dell'arbitro Lo conosciamo tutti Faccio male a dire No No Non faccio male Dì la verità Non faccio Fai tenente Oh bravissimo Raccoglie e passa Grande tenente Va bene 5-3 Pratica Hanno un lotto I punti che abbiamo fatto Nello scorso inning Ora Candela Brava battuta Vediamo un po' 1-0 Calma Non abbiamo fatto Riggirare la massa Anzi Deve C'è Non detto No Io perché vedo La palla buona Riggirare Io c'ho lì L'istinto L'istinto Io devo frenarlo Il mio istinto Oh Però stavolta Era valida Va bene Grande Abrams Grande Abrams Va bene Ora Derek Hill Ancora la battuta Dai Vai Derek Calma Siamo molto calmi 1-0 Dai Va bene Calmi Stiamo molto calmi Stiamo molto calmi 2-0 Benissimo Io almeno due E lascerei andare Almeno due Dipende da come le lanci E lascerei andare Proprio Devo farlo stancare Devo Devo Devono Cadere gli Devono cadere gli Le braccia a terra 2-1 Calma Calma 2-2 Va bene Ok Calmi Eric Ma porra Stati fermo dove sei E' Interminato E' bruttissimo Will Myers Will Myers La battuta Will Myers Non fare minchiata Tatti dove sei Fare minchiata Tatti dove sei 1-0 1-0 1-0 Dai Will 2-0 2-0 Ok Calma Devo farlo lanciare A mai finire Ma proprio anche in previsione Nelle prossime partite Devo stancargli Di tutti Più possibile Notare che magari L'ultima partita Arrivi Arrivi magari In qualche modo In difficoltà Quei lanciatori Intanto 3-0 2-0 Le lascio andare A prescindere Non mi interessa Può tirarle Anche centrali Me ne frega niente Le lascio andare A prescindere 3-1 Me ne frega niente Prossima pure Prossima pure Le lascio andare A prescindere Me ne frega niente Me ne frega niente Lascio andare Lascio andare 3-2 Ok Adesso a noi 3-2 Valida E' valida E' valida E' valida Va bene Va bene E' valida Un altro turno Si fa un altro turno Ribattuta Si fa un altro turno Ribattuta Va bene E adesso c'è Menezes La battuta Dai Fa un altro turno Dai 1-0 Dai Dai Fa un altro Bell turno Di 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 lancio Dai Dai Signori 1-1 Va benissimo Va benissimo Siamo Ora Obiettivo Ti punta A stancarlo Lui Lui E tutti Gli altri Dobbiamo Locorarli 2-1 Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene 2-1 2-1 2-1 3-1 Benissimo La prossima La lascio andare Prossima La lascio andare Prossima La lascio andare Prossima La lascio andare E i ball Benissimo Oh Bati piene E loro cambiano Benissimo Va tutto bene Va tutto bene Charlie Morton Loro rilievo Adesso la battuta E lancia anche Questo fortissimo Va bene Ora Ok 0-1 E mo devo far Stancare questo Ecco 0-1 Calma E 0-2 Però se questo Retire tutto In zona di strike A prima A seconda Devo girare Vabbè 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 Comunque Perlomeno Mi ho portati Già al quarto inning A schierare A schierare Il primo rilievo E già è qualcosa Ora Eikoff Benissimo Tenente tua Serenamente tua Tenente Ok tenente Primo eliminato Va bene Ok Poi Ora Eikoff Sì Però Arbitro Vabbè Ora Eikoff Dandero Dandero Dandada Managgia la Miseria La 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 Eikoff 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 Heiner Eikoff Ti prego Senti Lo penso Per capirla Edwards Warm up Harvey Floro Floro Io preferisco Tenermelo Per Floro Preferisco Onestamente Tenermelo Per Quali Tra In Palma 0-1 Punto Ce l'hanno Sicuro No Basta Una flyer Prendo Dopodiché Quello Corro in Terza Bate In Casa Bate Invece Grazie Ok Ecco Vedi E qua C'è E qua C'hanno 5 a 4 Eeeh L'ho detto 5 a 4 Mo' Siamo avanti Solo di uno Mo' Siamo avanti Solo di uno Eeeh Qua Eeeh Vedete Una batteria Di battitoli In camale Che tintare Di carica Ti prego Ti prego Non adesso Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Già 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 Che tintare Grissom Off the first With two away Next pitch Misses inside Full count Three and two Gets a piece And stays alive 3-2 Down That's hard hit On the line Drops for a hit He couldn't run it Down In to score From first It's 5-5 5-5 Signori E niente E niente Ricomincia adesso La partita Non beccino Ragazzi Sono troppo forti Perché abbiamo avuto Un buon inizio Ma sono troppo forti E here comes Oh E And now Outside 5-5 5-5 5-5 Dobbiamo battere noi Lo restituisce la battuta Salvo Che 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 Va bene Va bene Salvo Ora Garcia Tente Garcia La battuta 1-0 E devo farlo stancare Non lo so come Però vediamo 1-0 1-1 Poi questo Sembra avere Stamina infinita Il secondo inning Questo è il secondo inning Che lancia E il secondo inning Che lancia E come se avessi iniziato adesso 2-1 Perché Ho vista centrale Era centrale Era buona da prendere Niente Prima 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 E vabbè Provo a far iniziare A Eikoff Grazie arbitro Questa Questa è proprio Questa è uno strike Letteralmente Regalato 2 Che slide Provo 2 Provo 1-2 Sembra 1-2 Sembra 1-2 Slye Curva Non gliela Darò Curva Mai Nella vita Ma puoi morire male Posto che ti casca Il braccio A te Io non Traderò mai Curva Mai Posso stare Mezz'ora Qui Ne frega Niente Mai Te la darò Curva 2-2 2-2 Questa è tua Arenamente tua Iliminato Va bene Va bene Un alps Cari 0-1 Slider Ha girato la mazza Eh che cacchio E dai 0-2 Poi Curva Provo Ecco Non lo farò mai più Il recchio è tua Mi prego Sarebbe anche tua E tu Io ti odio Io ti odio Io ti odio Devi alzare un braccio Devi alzare un braccio Dovevi alzare un braccio Fanculo Bullpen Hunter Harvey Tuttingham Bullpen Rosenthal Form up Bene 0-1 Eeeh Qua è Madora 0-2 Slider Mia Vai Vai Così Ale Grande Grande Hunter Grande Hunter Secondo eliminato Grande Hunter Ok 0-1 Poi Mi 3 Mi 3 Ce la fai Mi 3 Alè Teniamo Teniamo sto sesto inning Teniamo sto sesto inning Qualche maniera teniamo sto sesto inning Mo Carlin Morton 1-0 Ma come devo fare con questo 1-0 2-0 Benissimo Va bene Va bene Va bene Va bene 2-0 Ok Salmi Benissimo Benissimo Base ball Candelabro preso in faccia Preso nella palla Ok E adesso Abrams Alla battuta Ball 1-0 Dai Va bene Bene Calmi Dobbiamo stare calmi Calmi Grazie arbitro 2-0 Dai Dai signori Dai Dai signori 3-0 Bene Va bene Va bene Va benissimo Adesso anche il prossimo Lo lascio andare Me ne frega niente Perché deve stancarsi Devo 3-2 Vabbè Vabbè Questa è chiamata piuttosto stronza L'arbitro Va bene Ok 3-2 Eee Fan Curio Io poi Accetto la sfiga Porca miseria Vabbè Eliminato 0-1 0-1 1-1 Ok Va bene Calma Stiamo calmi Stiamo molto calmi 1-1 2-1 Benissimo Va bene Bene Va bene Va bene 3-1 Benissimo 1-1 Lasciamo andare Una lasciamo andare Una lasciamo andare E vai in ball Ok Dai Adesso Will Myers Ha la battuta E Will E Will Era valida Era valida Va bene Va benissimo Va bene Basi in piedi Basi in piedi Un eliminato Dai Ora Menezes Calmi Devo avere fretta di girare la matta Calmi Questa però forzerà la battuta 0-1 Calmi Calmi Siamo calmi Siamo molto calmi 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 0-2 Siamo molto calmi Ok Vaffanculo Lì tra la battuta 1-1 1-0 Dai Dai 1-0 2-0 Benissimo Dai 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 Perchè 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 Ho girato Perchè 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 Sono così scemo Perchè Perchè Sono così cretino Perchè Moe Britton Form up Poi tutti gli altri Qua 1-1 Va bene La tira dove gli pare a lui Va bene lo stesso Slider Manco Un pochino più alta 1-3 Assenti Dritto perdi Ce la fai? No 0-1 Poi Slider 0-2 Ok Change Qua Olè Fio eliminato Vai Rosen Vai Trevor Run e Rosen Adesso Va 1-0 Change Vai Falla la doppia Sbannaggia la put- Vabbè Almeno abbiamo due eliminati 1-0 1-1 Dai Change Benissimo 1-2 Con due nodi così Ale Teniamo Teniamo il set Dai 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 signori Dai signori Adesso Royce Lewis Alla battuta Contro il Palmorton 1-0 Dai Devo Calma Con tanta calma Con tanta calma 1-1 Devo frenarmi Devo farlo stancato 2-1 Ok Va bene Va bene Bene Vabbè Ok Strike uguale 2-2 Calma Calma Calmi Calmi Tenete Garzia Garzia La battuta 0-1 Calma Paul 0-2 Centrale Mi trastraico Lo stesso Sempre 0-2 La bolla Ma C'avevo il dubbio Solo 0-2 Ma Por Minato Carson Kelly Alla battuta Niente Oddio ne sbagliassero O hanno sbagliato Quella all'inizio Che ci ha fatto Fai punti Hanno sbagliato Quella Fine Non hanno sbagliato Più niente Noo Bullpen Edwards Putting game Bullpen Allora io metto Floro Warm up Ma perché Il prossimo Punto Di farci Ditton Ora Edwards Te prego Ok 0-1 Passiamo una cutter Tipo così 1-1 Cerco Va bene 1-2 Slarve E 5-40 E 5-40 E ci Perla Ai 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 Non ci Voleva Non ci Voleva L'ha eliminato Ragazzi ma che cazzo dite vero No e dai l'ha eliminato però È arrivata prima la palla Ma che cosa dici vero Dai Ma dai è arrivata prima la palla L'ha pure toccato Con la palla Che cosa dici 3 Qua Subito 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 Peno male che non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è 0-1 Però adesso abbiamo un problema Abbiamo un problemone grosso Abbiamo un problemone enorme Siamo sotto di un punto Almeno Punto se riusciamo a chiudere adesso Sì Uno Finita tua Posto Siamo sotto di un All'ottavo in Siamo sotto di uno O facciamo un punto adesso O diventa davvero dura Diventa brutta Raizel Iglesias Cambia il lanciatore E' Femma un altro che tira fortissimo Va bene Anderà buona battuta Lancia tutto Lancia tutto Snodabile Tutto Lancia tutto Molleggiato 0-1 0-2 Scusate Tutto molleggiato 1-2 Lancia tutto Molleggiato Vai Valida 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 Le candelabro Va bene Va bene Va bene Candelabro Dai La valida Non c'era valida Ora Di Abrams Cacchio 0-1 Non succede niente Ovvio 0 E porto 0 No No Almeno Almeno uno è salvo Almeno sono eliminato Sono eliminato Vabbè Vabbè Eliminato Ora Delechi la battuta 1-0 Almeno Mi stanca in fretta 1-0 Valida 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 Va bene Va bene Va bene Va bene Valida Dai Ora Will 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 Mayer La battuta Un po' Poi tra l'altro Porca miseria Allora Guarda che cosa va lanciando questo 0-2 Ma perché non la prende Indirizzo giù con la levetta Premo col tempo giusto Non la prende Perché Erli il cazzo Non è vero Non è vero Il cazzo È No Il cazzo Di Il cazzo La battuta Un po' Taddi Non c'è Non c'è Non c'è Si Un po' game britton bullpen e qua dobbiamo pregare di che possiamo pregare dobbiamo non lo so che cosa devo non lo so dobbiamo non subire punti e fare un punto noi al prossimo in fase di battuta però non subire punti con questo qui questo qua i3 bravo i3 dai questo era brutto questo era un brutto cliente un brutto cliente 1-0 però britton per amor del cielo ti prego brutta 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 lasciamo bene qua bene qua 1-0 bene qua bene per niente slide e domani io premo oggi tu il passaggio faglielo domani eh mi raccomando domani faglielo domani il passaggio mi raccomando io premo oggi tu il passaggio faglielo domani slide olè con l'ho eliminato dai dai personal walk il gran cazzo hai presente il gran cazzo personal walk il gran cazzo perdo la partita la perdere è uguale probabilmente ci sono momenti in cui ci vuole ci vuole l'atto di coraggio e questo è uno di quei momenti 1-2 e alè te piglia sto intentional walk to to piglia sto intentional walk amuni intentional walk la fissa è so solo intentional walk la mamma dell'arbitro fa intentional walk in tangenziale va bene comunque ora e ci vogliono cose ci vogliono eh perché eh sì va bene tranquillo dai allora allora dalla legia di quello che non sono normale ha perfettamente ragione ora Mitre alla battuta 0-1 0-1 eh mi cazzo 0-1 1-1 ok dai Lutar dai Lutar dai Lutar 2-1 ok va bene va bene va bene Lutar 2-2 va bene lo stesso 2-2 va bene ok 2-2 va bene very late ok tira fortissimo eh eh prima eliminato Royce Lewis ha la battuta Lewis 0-1 and then from there can really settle in 0-1 1-1 ok dai Royce dai Royce 2-1 ok va bene ok valida dai dai Royce dai Royce dai Royce va bene va bene Royce ora tenente tenente che sia la battuta 1-0 dai calmi calmi stiamo calmi 0 no fare cavolate fare cavolate 2-0 va bene ok calmi calmi 3-1 calma calma 3-1 benissimo una lascio andare una lascio andare una lasciamo andare ok 3-2 va bene questa era la fichierà battere 3-2 potevo permettermi di combattere 3-2 dai ok va bene Va bene Va bene Fallo andare Fallo andare Fallo andare 6 a 6 E Ale Dai Dai 6 a 6 Uomo in seconda base e prima base E sono eliminato Ok Va bene Carson Kelly è la battuta Dai 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 Grande tenente 1-0-1 va bene Va bene Va bene Va bene che l'abbiamo ripresa Va bene che l'abbiamo ripresa 1-0-1 Dai Ah Non lo so forse la chiamava bolla Calma Non è successo E' successo Calma 1-2 Dai Dai Sta anche stancando Dai Che ti sta anche stancando Dai 2-2 Va bene Va bene Va bene Va bene 2-2 Sempre 2-2 Va benissimo Lo teniamo lì Lo teniamo lì Va bene Lo tieni lì Carson Lo tieni lì Carson Va bene 3-2 Dai che lo facciamo andare in tilt 3-2 Dai Carson Dai Carson Ok Fermi Non fare cavolate Fare cavolate Va bene 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 Ok Cambia il lanciatore Sto Joe Jimenez Tira a bocca più forte degli altri C'è Braccio pneumatico questo qua Ok 1-0 Dai 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 Le candelabro Le candelabro Gran 2-0 Grande arbitro 2-0 Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene 2-1 Va benissimo Lo stesso Va benissimo Lo stesso Benissimo Lo stesso Facciamoli lanciare Facciamoli lanciare Facciamoli lanciare 2-1 3-1 Benissimo Una la lasciamo andare Una la lasciamo andare Una la lasciamo andare Lasciamo andare A pene De due Ok Anderab 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 Credo Grande Dai Mamma ci voleva Vedi se vedete Noi non siamo normali Noi non siamo normali Sta banda di matti Non è normale Abbiamo perso tre partite Con i White Sox Con i White Sox Avevamo 60 vittorie Abbiamo perso con Tre partite con i White Sox Che hanno vinto Un terzo delle loro partite Abbiamo vinto Abbiamo vinto Con i Braves Non siamo normali No Non siamo normali Noi non siamo normali Noi non siamo normali Non siamo Normali Non siamo normali Noi non siamo normali Sette e sei Vinciamo la prima Con i Braves Io non 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 Vabbè Tutto allora E allora va bene tutto Vediamo un po' Che hanno fatto gli altri Se lui si ha perso Se lui si ha perso Conto Vabbè Conto i Brewers Va bene E i Mets Hanno vinto E vabbè Non Gli altri Padres Non mai Non sto neanche a guardarli Ok Anziamo E la prossima E andiamo La prossima Partita Con la seguente Classifica Padres Se prima 86 I Mets Ne abbiamo 82 In realtà Sono due di vantaggio E E E Nationals Abbiamo due di vantaggio In realtà è una A parità di vittorie A parità di partite E una È una sola La vittoria Di vantaggio E Porca miseria Noi non siamo normali Lo dico Noi non siamo normali Detto questo Vediamo appuntamento alla prossima They're over 20 Di vantaggio Di vantaggio